La ragazza 5 de gotti e 300 de merce Così per la finanza è tutto regolare Oggi ho conosciuto una ragazza a mezza brasiliana Mezza? Sì La tramezza che era? Non è venuta Fiamme gialle Lo sapeva, la finanza è meglio la malattia E a quanto monterebbe le importo? 300.000 euro Hai capito il pecorino? Il ragazzo prende 300.000 euro, li mette dentro altri gigoli di gomma e lo porta a me E adesso tu questa trecchiccheria Mi porti le altre due cose modificate? E io pago